Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha ricevuto a Palazzo d'Orlean il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi. L'incontro è stata occasione per la sottoscrizione di un protocollo di cooperazione rafforzata tra il Ministero e la Regione Siciliana a supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Noi puntiamo essenzialmente sulle grandi infrastrutture. Abbiamo già previsto un impegno di oltre 300 milioni di euro per il completamento dell'autostrada Caltanissetta-Agrigento con l'ANAS e il completamento del passante ferroviario nei pressi di Palermo, fra Palermo e Carini, con la rete ferrovie italiana. Stiamo puntando molto sul sostegno alle imprese, quelle che vogliono andare all'estero, quelle che non hanno da solo le possibilità per poter procedere alla internazionalizzazione. Sono fiducioso perché l'impegno del Governo nazionale ad aiutarci a risolvere una pesante eredità che abbiamo trovato a dicembre, appena il 6 milioni di spesa certificata, può consentirci il 31 dicembre di raggiungere l'obiettivo. Spesa di qualità, progetti di qualità finalizzati alla crescita economica e sociale di questa terra. Non ci possiamo permettere il lusso di mandare indietro tanta risorsa finanziaria. Grazie.